Madameina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo di griglie che ho fatti io, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in bronce, 290. Noi in Spagna, noi in Spagna, sono già mille e tre, mille e tre, mille e tre. Vanno fra queste contadine, vanno pubbliere cittadine, vanno contesse e baronesse, marchesine, principesse e bandone, d'ogni grado, d'ogni forno, d'ogni età, d'ogni forno, d'ogni età. In Italia 640, in Almagna 231, 100 in Francia, in Turbiana 91, ma, ma, ma in Spagna. Sono già mille e tre, mille e tre, mille e tre.